Anche sul tema della prescrizione, io mi stupisco di chi si sta stupendo in questi giorni. Non era semplice mettere in piedi questo governo, questa alleanza di governo, ci sono sensibilità diverse. Il tema della prescrizione è stato un provvedimento approvato dal governo precedente, dal governo giallo-verde, non è stata una nostra presa di posizione. Ci sono sensibilità diverse anche all'interno della maggioranza e questo non va negato. Io per dire, le dico la mia sensibilità su questi temi, io si figuri ho accolto come un principio di civiltà, a differenza di altri nel governo, la sentenza della Corte Costituzionale che dice rivediamo il gastro ostativo e il fine pena mai. E se io ho dei dubbi morali sul fine pena mai, perché sono convinto della funzione rieducativa della pena, si figuri se accetto il fine processo mai, che è ancora peggio del fine pena mai per me. Tutte queste sono sensibilità diverse che ci sono nel governo. Noi dobbiamo trovare una soluzione ragionevole. E la soluzione ragionevole, ovviamente, se tu blocchi la prescrizione, è quella di avere garanzie sulla ragionevole durata dei processi. Però queste garanzie non stanno arrivando. Guardi, c'è una discussione in corso. Io non sono competente di questi temi, ma è una discussione politica. L'ex ministro Orlando sta discutendo con l'attuale ministro Bonafede. Io penso che su questo principio di ragionevolezza si possa arrivare a un accordo all'interno della maggioranza. Ma prima, cioè, buonsenso ci dice che prima di bloccare la prescrizione tu devi avere un accordo... Questo è irrinunciabile per il Partito Democratico, questo punto. Ma guardi, il Partito Democratico in questo governo sta facendo le sue battaglie, e dovremmo parlare molto di più, per esempio, della legge di bilancio, che era, diciamo, il tema all'ordine del giorno, perché se entra in vigore il blocco della prescrizione nel primo gennaio non è che si producono effetti immediati. Quindi, diciamo, per questo c'è l'esigenza di avere almeno un accordo politico. Il Partito Democratico non lancia ultimatum, a differenza degli altri alleati. Sta nel governo con senso di responsabilità e anche con la determinazione di dare delle garanzie ai cittadini. Su questo, diciamo, è un tema, credo, molto più sentito di quello che si... Però Orlando stesso era stato molto duro su questo tema, per... Allora. Allora. Allora.